Si è svolto a San Giovanni in Fiore il secondo memorial, il ricordo di Danilo Montenegro, riconosciuto come l'Incantastori, scomparso prematuramente nel novembre del 2020. Filo conduttore della serata, le ballate del maestro e cantastori, da sempre, al fianco degli ultimi, dei braccianti, dei diseredati. Montenegro, nel suo repertorio di musica popolare di ricerca, ha scritto anche due ballate. Si tratta della ballata di Fragalà, in memoria dell'Ecidio, che avvenne nell'ottobre del 1949, a Merissa con l'uccisione di due uomini e di una donna, e poi un'altra ballata, dedicata alla mamma Giuseppina. Una donna che, per stare accanto al marito, geometra impegnato nella costruzione dell'acquedotto il primo settembre del 1947, morì nel tentativo di salvare la sua bambina Teresa, che nel frattempo dormiva in una tenda nella valle del Tacina. La tenda in cui la bimba dormiva prese fuoco, perché vicino vi era depositata una cassa di polvere da sparo, che serviva a rompere la roccia per la costruzione dell'acquedotto. In tanti hanno partecipato al Memorial, organizzato dalla Proloco San Giovannese, proprio perché Montenegro ha lasciato un segno con la sua arte, che non si fermava solo alla musica, ma che spaziava anche nella pittura, nella scultura, nella composizione poetica. Nel corso dell'evento si sono esibiti molti artisti locali. L'attrice Maria Teresa Guzzo, che dalla biografia di Montenegro ha tratto un monologo fiabba, l'attore e commediografo Salvatore Audia, che ha presentato la serata declamando alcuni dei brani poetici di Montenegro. Il ballerino e coreografo Giuseppe Mele, con una coreografia sulla ballata Fragalà. Alla serata era presente il regista Masino Medaglia, produttore del cortometraggio Mamma Giuseppina e Michele Belcastro, amico di Montenegro, nonché testimone oculare dei fatti accaduti a Mamma Giuseppina. Il tutto sotto la regia di Enzo Gigliotti, della Gigliotti Produzioni Audio Video. Una serata che ha registrato la soddisfazione degli organizzatori della Proloco di San Giovanni in Fiore, realizzata in collaborazione con Publisfera Casa Editrice.